Capisci che se non riesco a trovare qualche tenere e dolce fanciulla non potrà mai completare il mio capolavoro? Ma perché non me l'ha detto subito che è questo quello che lei voleva? Lasci fare a me! Per la miseria, questa tipa è davvero la fine del mondo! Stico, è proprio il genere di ragazza che cercavo! Perfetto! Allora mi seguirò nell'addestramento! Certo! Ma a una condizione! Sta che davanti a me ti presenti sempre sotto questa forma! Lei è fissato con le donne! Già! Ti dispiace? Si, figuri!